Siamo qua stasera felici di poter partecipare alla chiamata di Agatino per la giornata della SLA. Piccolissimo contributo, siamo vicini Agatino e tutti chi ha questi problemi. Siamo contenti di questa chiamata ricevuta e tutta la squadra, non tutta, un po' di ragazzi, una rappresentanza, siamo felici di fare questa iniziativa per queste persone che combattono contro questa brutta malattia. Ah mi è avanzato pure, se volete qualcuno volete dire. Ah mi è avanzato pure, penso a te.